Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Allora oggi ho già fatto un video appunto sul dark web monitoring ma voglio integrare con un nuovo video il mio canale parlando invece di una distribuzione linux che è elementary OS Allora questa distribuzione esiste già da diverso tempo io dico la verità l'ho scoperta oggi ed è una distribuzione ginux per personal computer basata su Ubuntu ma la cosa che mi ha veramente colpito essendo io Mac dipendente è appunto che nell'aspetto è molto simile al Mac OS X Allora da quello che ho visto è una distribuzione orientata verso la semplicità ma allo stesso tempo vedo anche al minimalismo perché grazie alla scarsa possibilità di personalizzazione grafica Allora premetto che io l'ho installata su una macchina virtuale ho visto che però bastano veramente poche risorse per farlo funzionare al meglio quindi secondo me l'idea di questa distribuzione è molto adatta appunto a computer datati quindi computer che hanno processori non di ultima generazione per cui partire da un processore Intel Core i3 a 64 bit o comparabile dual core a 64 bit bastano 4 giga di RAM per farla girare bene e 15 giga di spazio libero sul disco rigido e ho visto che anche la risoluzione basta un 1024x768 per far sì che si veda abbastanza bene adesso vi farò vedere un po' il layout e com'è composta questa distro ma prima di fare questo vai con la sigla del mio canale ok eccoci qua come potete vedere ho avviato la mia bella macchina virtuale non vi faccio vedere ovviamente l'installazione della distro ma perché è veramente molto banale una volta che voi avrete scaricato il vostro file ISO e fate attenzione perché adesso vi faccio vedere che il file ISO di per sé lo dovrete scaricare in questo sistema ve lo faccio vedere perché a differenza delle altre distro di Linux questa versione praticamente vi fa magari vi potrebbe far spaventare perché vedrete comunque dei soldi da mettere ok è una politica che ha scelto chi ha fatto questo sistema allora datemi un secondo che se no non riesco a scrivere element montari OS ok vi faccio così vedere appunto dal sito che cosa per scaricare l'ISO cosa dovete fare ok questo qui è proprio il sito ufficiale dove potrete scaricare l'ISO però vedete hanno utilizzato una politica dove hanno messo paga quanto vuoi vi dicono acquista elementari OS in realtà se voi cliccate su altro e mettete 0 perché non va perché non ha il blocco numerico attivo mettete 0 praticamente ve la fa scaricare gratuitamente però ecco ci tenevo a dirvelo perché comunque hanno applicato un po' la politica di quelle delle applicazioni gratuite ok che quelle che scaricate sul vostro smartphone vabbè tuttavia detto ciò vi faccio vedere un po' com'è il layout di questa distribuzione come potete vedere è veramente molto minimalista abbiamo una barra qua molto simile a quella a una dock bar dei sistemi della Apple della mela morsicata abbiamo una dock bar qui sopra abbiamo un menu dove contiene tutte le applicazioni che di default sono installate è possibile avere ovviamente come tutte le distribuzioni Linux il terminale quindi come potete vedere il terminale è presente abbiamo a differenza magari di alcune distribuzioni Linux tipo Parrot OS o Kali Linux che però vabbè quelle sono ovviamente delle distribuzioni molto specifiche per determinate azioni di lavoro abbiamo presente come in Ubuntu un App Center dove potremmo andare a scaricare le nostre applicazioni e che se adesso mi si apre li farò vedere abbiamo l'App Center suddiviso ovviamente per categorie ok dove se noi clicchiamo vi faccio un esempio facciamo un esempio sull'audio ok potete vedere che ci sono quelle native che sono gratis e poi ci sono quelle degli sviluppatori di terze parti dove comunque vi mettono un costo ma attenzione se voi volete comunque scaricare un'applicazione dove c'è un costo è molto semplice cliccate sulla freccetta e mettete come prima zero ok vi diventerà gratuita e potrete scaricarla gratuitamente diciamo che tra virgolette sarebbe buona norma magari pagarla l'applicazione nel senso che comunque sia chi ha sviluppato l'applicazione ha fatto un lavoro e magari vive solamente di quel lavoro tuttavia è anche vero che comunque linux è un sistema open source quindi di conseguenza dovrebbe essere tutto gratuito ok per cui niente questo qui è un po' è un po' la 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 come si dice la 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 layout della distribuzione elementari os ripeto come potete vedere è veramente molto minimale molto molto minimale però a dire la verità è anche molto carina se vogliamo vederla in un altro modo non è troppo personalizzabile perché comunque sia appunto per non andare a consumare troppe risorse gli sviluppatori l'hanno resa non troppo modificabile ora io vi volevo far vedere magari solamente come modificare lo schermo però ancora non ho preso mano bene con questa versione quindi non so dove devo andare tuttavia magari vediamo se se ci riusciamo impostazioni di sistema ok perfetto abbiamo la scrivania vediamo un po' di cambiare solamente lo sfondo mettiamo questo è carino possiamo cambiare l'aspetto la doc farla la facciamo un po' più piccola angoli attivi possiamo mettere anche gli angoli attivi quando il corsore entra nell'angolo dello schermo ok e come potete vedere veramente secondo me è una distribuzione carina e dipende poi se voi non avrete grandi necessità di potenza di calcolo e ovviamente come vi dicevo precedentemente è studiata per sistemi per computer un po' datati quindi vedete un po' insomma ecco ok come avete potuto vedere Elementary OS è un sistema veramente a mio parere versatile un sistema molto minimo minimalista ed è un sistema che come ripeto graficamente si avvicina molto a quello del Mac ho voluto fare questa piccola recensione giusto perché visto e considerato che parlo sempre solo di cyber security in realtà non faccio solo quello ma ogni tanto mi diretto anche a testare le distribuzioni Linux per capire un po' le differenze l'una con l'altra detto questo io spero che anche questo video vi sia piaciuto e nel caso vi fosse piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al canale e niente vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video a presto ragazzi e buona serata grazie a tutti Grazie a tutti